Da Gauto, Mitsubishi Motors, in via nazionale torrente, mercogliano, a Villino. A pochi minuti dall'inizio dell'Assemblea dell'Alto Calore Servizi, la tensione palpabile fa discutere la decisione dell'ente di corso Europa di concedere il voto finale solo a quei comuni che hanno già deliberato. Pochissimi, in realtà, quelli che si sono espressi con un sì o un no all'aumento di capitale, ragion per cui a decidere sarebbero pochi e soffiaggia aria di ricorsi in tribunale. Col comune di Avellino commissariato e quasi sicuramente non rappresentato, ad avere il peso maggiore in assemblea sarebbe l'ente provincia, ma anche qui il consiglio non si è espresso perché Biancardi a più riprese ha chiesto di sapere prima cosa sarebbe accaduto un attimo dopo con l'apertura a terzi. Si aggiunga il fatto che i dipendenti saranno presenti in assemblea per far sentire il peso della responsabilità ai sindaci, che i comitati contrari all'apertura ai privati saranno presenti per dire no e chiedere il rinvio dell'assemblea rilanciando una discussione approfondita. In questa vigilia attesa tutto suggerisce un aggiornamento a data da destinarsi. A conferma c'è pure un fitto dialogo nelle ultime ore tra l'amministratore delegato Ciarcia e il presidente della provincia Biancardi. Neppure l'incontro al Ministero dello Sviluppo ha prodotto concrete azioni ieri a Roma, si è manifestato un'intenzione acqua pubblica e finanziamento ponte per il rilancio dell'ente. Tuttavia non ci sono ancora i soldi materiali e questo non cancella l'opzione fallimento che resta in campo in attesa di novità.